I primi dieci minuti e poi dopo sfoghiamoci che abbiamo anche bisogno, però adesso entriamo tutti insieme, entriamo tutti insieme, oggi è una grande dimostrazione di grande maturità, di grande maturità e di grande unità, guarda entriamo insieme, quello è il corretto. Dobbiamo sapere tutti, la nostra versione è che quello che è successo a differenza di qualcuno non è mai cambiata, dal primo minuto l'abbiamo letto e l'abbiamo letto noi, quelli che erano sul pullman all'inizio e quelli che erano sul pullman dietro, che hanno visto l'aggressione. Chi continua a cambiare versioni dice solo ugie, quello che la Bifosina Atalantina ha subito a Firenze è una vergogna, è un'ingiustizia, è un'ingiustizia. Allora bisogna fare tutti, oggi è il sentimento che potevamo più facilmente fare, è la vendetta, la vendetta, ma non possiamo fare il loro gioco. Oggi la risposta più bella è la gente, è stata tutta la gente che può essere. Sarà la solidarietà, la vicinanza. Se qualcuno avessimo solo il minimo dubbio che avremmo raccontato cazzate, la gente non ci avrebbe creduto, non ci avrebbe creduto e invece la gente ha capito che noi quando facciamo siamo disponibili a pagare. L'abbiamo sempre fatto, la nostra faccia l'abbiamo sempre messa. Molto spesso abbiamo anche pagato cose che non abbiamo compiuto, ma la nostra responsabilità l'abbiamo sempre messa. Questo giro invece è stato un abuso di potere bene o buono contro l'inforzo della solidarietà. E non possiamo stare in silenzio. Noi le volte le abbiamo spesso prese e siamo stati anche in silenzio a volte, perché comunque era giusto così anche a volte, poteva anche starci da parte delle, di tutto quel che può cadere. Ma questa volta, questa giustizia non può passare così in silenzio, non può passare assolutamente di silenzio. Quello che chiediamo oggi è solo un concetto molto chiaro, molto chiaro. Verità e giustizia. Verità e giustizia è quello che chiediamo. E' quello che abbiamo chiesto, senta subito. Senta quando poi siamo inseriti su quel pullman. Oggi una grandissima dimostrazione di affetto della gente, di rispetto. Questa curva ha fatto veramente tanto, tante volte per tutti. E' la cosa più bella per tutti essere qua così tanti. Certo dilugarci. Arriviamo. La nostra decisione di oggi è quella di stare per i primi dieci minuti in silenzio. Abbiamo preparato uno striscione dove non contiene nulla di offensivo, nulla di minaccioso. E quindi è doveroso che questo striscione entri all'interno della curva. Perché la nostra voce deve essere... Dobbiamo far sentire la nostra voce. Soprattutto anche all'interno. Quindi... Oggi l'abbiamo detto. La responsabilità è importante. Che nessuno faccia cazzate. La credibilità conquistata in questi giorni non possiamo perderla oggi. per il sentimento di vendetta, di iragia che comunque abbiamo. Che comunque lo abbiamo. Perché comunque lo diciamo a tutti. Siamo incazzati. Perché le botte fanno male. Soprattutto se sono gratuite. Oggi per la dimostrazione. Andiamo in silenzio. Ai tornelli. Entriamo nel proprio filtraggio. E poi parleremo con chi dovrà decidere se far entrare uno a questo striscione. Lo ripetiamo. Questa striscione è molto semplice. Non è offensivo. Chiede verità e giustizia. Mi raccomando che nessuno faccia cazzate. Andiamo con responsabilità e con la testa. E con la mentalità che questa curva ha sempre avuto. Luca Vita Giustra e Luca Vita Giustra. E mi raccomando che nessuno faccia cazzate. Applausi. 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 Applausi.